Traversa Aspetta, butta la palla fuori butta la palla fuori butta la palla fuori ha preso una pallonata numero 9 allo stomaco Dovevate buttare il pallone subito ho detto, dovevi buttare il pallone adesso riprenderà l'arbitro farà scodellare il pallone prendi la palla che deve riprendere l'arbitro deve scodellare il pallone su, ok ok rientra il ragazzo il numero 9 dopo la botta presa allo stomaco involontario dai pallone all'arbitro rimessa è terminato l'incontro i ragazzi i ragazzi vanno tutti a centrocampo si vanno a salutare 15 15 poi i ragazzi